Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà Siamo nello spazio riservato ai vocalizzi Con noi c'è Cinzia Tulliani Ciao Che ci aiuterà per quanto riguarda le voci femminili E oggi faremo un esercizio per allenare la voce di testa Nella puntata scorsa abbiamo parlato di che cos'è la voce di testa Io vi lascerò il link in descrizione Poi per chi non sapesse che cosa sono e a cosa servono i vocalizzi Vi lascio anche la prima puntata dedicata proprio ai vocalizzi E vediamo tutto questo dopo la sigla Cantare in libertà Bene, il vocalizzo che vi voglio proporre oggi è questo Usiamo una sillaba che è Kni K-N-I Kni, 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 Kni Non Nick, ma il contrario Kni Ok E faremo un arpeggio In questo modo la voce andrà direttamente in una risonanza di testa Quindi Kni, 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 Kni Sentite come anche per i maschietti Kni, 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 Kni Questo diciamo per i bassi Iniziamo da questa accorda di Sol maggiore E proviamo a farlo insieme Attenzione perché la nota Diciamo che l'arpeggio lo consideriamo come Do, Mi, Sol, Do, 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 Sol, Mi, Do Il Do si ribatte per quattro volte Non è sempre facile ma basta un po' di pratica e ci riuscite Quindi sarà Kni, 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 Kni Se vedete che a un certo punto la lingua inizia a addormentarsi Perché Kni, 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 Kni a volte non tutti riescono a farlo per tanto tempo Possiamo sostituire Kni con Kui, 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 Kui Kui, 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 Kui Provate voi Ok quindi vedete se riuscite a fare Kni, 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 Kni Altrimenti passate a Kui, 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 Kui Proviamo ancora Kni, Kni Ovviamente se non ce la fate e vedete che provate stanchezza Oppure non riuscite a arrivare a queste note perché magari siete dei bassi O dei contratti per quanto riguarda le donne Fermatevi e di qua possono continuare sicuramente i soprani e i tenori E poi tornerete indietro Leggero Ok io mi fermerei qui al Sol maggiore Quindi abbiamo coperto due ottave Torniamo indietro O anche qui Qui, 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 Qui Andate voi Poi a un certo punto possiamo anche mantenere questa nulla Kni, 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 Kni Se volete lo potete fare da soli o farvi accompagnare Per assicurarvi di poter mantenere un suono in testa Poi lo potete anche prolungare Kni, 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 Kni Ok torniamo nella modalità veloce Kni, 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 Kni Kni, 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 Kni Andate voi Ultimo Kni, 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 Kni Bene, andare più giù non serve Anche perché stiamo parlando di voce di testa E altrimenti andremmo troppo nella risonanza di petto Bene Cinzia, io ti ringrazio Grazie a te Mario E spero che insomma questi esercizi Siano stati di vostro gradimento Allenatevi non tutti i giorni ma Spesso Spesso, spesso Ciao, alla prossima Ciao 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 Ciao